E' la diciassettesima esecuzione in Corsica dall'inizio dell'anno. Il governo francese parla per la prima volta chiaramente di mafia. Jacques Nasser, presidente della Camera di Commercio della Corsica del Sud, è stato ucciso con diversi colpi di pistola alla testa in pieno centro da Iaccio mentre chiudeva il negozio di abiti di sua proprietà. Lo Stato francese non capitolerà in Corsica, ha dichiarato il ministro della giustizia Christian Tobirà, arrivata d'urgenza sull'isola con il ministro dell'interno Manuel Valls. Circa un mese fa un altro omicidio eccellente, quello di Antoine Solacarot, noto avvocato e campione dell'indipendentismo corso. La lotta fra bande criminali ha fatto di quest'isola, che conta solo 310.000 abitanti, la zona con il più alto tasso di criminalità in Europa.